Eccoci qua! Continua il divertimento a suon di musica insieme a Andrea Pucci, Pierluigi Pardo, Jake La Furia, Biagio Itzo, Anna Lisa, Naike Rivelli, Elisa Di Francisca, Katia Follesa Condotto da Alvin, Bring the Noise, il primo game show tutto musicale Mercoledì 21.10 Italia 1 Posso? Tocca a te adesso